hola a todos compagneros del mar ragazzi e ragazze guardate sono arrivate le meduse sono arrivate delle belle meduse trasparenti fucsia già la sotto il signore è stato gentilissimo che mi ha avvisato mi ha avvertito già che insomma qua arriva ce ne sono tantissime ce n'era una davanti eccola la ce n'è una bella grossa non entro in acqua perché vedete oggi sono senza scafandro quindi è meglio di no che se si attaccano poi bruciano ragazzi meglio evitare e fino alla sotto tutta la strada che mi faccio di solito ad aging tutta la spiaggia che mi faccio il signore dice che è pieno e questo vuol dire che l'acqua si è riscaldata infatti entrando con i piedi non è congelata e siamo siamo a giugno entrato già da un pochino quindi ragazzi siamo in estate e questo fa capire già che la stagione sta arrivando finalmente anche se al rallentatore ma sta arrivando guardate la cioè ieri pure verso quest'ora ha piovigginato oggi invece sembra un po meglio e ho detto mi vado a fare un po una pescatina ad aging il mare anche tranquillo c'è un il classico venticello di levante che soffi ogni giorno ma non dà fastidio la correntina subacquea è sempre la solita la stessa non c'è bisogno né di piombare né niente con un 35 si sta in pesca tranquille è questo ragazzi oggi una pescatina ad aging e se dovessi prendere qualcosa condividerò il video con tutti voi ciao amico e amiche ciao da manu